Ciao, sono Stefania, sono un ospite del centro Umberto Fazzone e volevo dire una cosa riguardo al Natale. Per me il Natale è ogni giorno, perché ogni giorno c'è una rinascita interiore, una crescita e per me questo Natale è molto importante, perché penso che ci sia una mia rinascita, una rinascita che non si basa solo quel giorno del 25, ma in tutti i giorni. E per le persone del mondo penso che il Natale dovrebbe essere ogni giorno, quindi vissuto al meglio ogni giorno, un giorno felice anche se ci sono delle sofferenze e delle tristezze. Vi auguro a tutti sempre di poter pensare in modo positivo e di darvi sempre una speranza. Vi abbraccio a tutti e buona giornata. No! All'ultima Ah Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uno spettacolo.